Il bar Caffè Fanelli ha necessità di vincere per mantenere invariato il distacco con Atletico State ed alleanza per la conquista del quarto posto che vorrebbe dire qualificazioni in Europa League. A far visita ai padroni di casa in quelli di Grottaglie uno Sparta Taranto che non ha più nulla da chiedere al campionato, carico di recriminazioni per quel che poteva essere ma non è stato. Troppe volte infatti per un motivo o per l'altro i ragazzi del presidente Agnoletti hanno mancato l'occasione per fare il salto di qualità, cosa che era assolutamente alla portata del collettivo spartano. Per gli uomini casacca verde invece ci sono ancora sei punti in palio per coronare un'ottima stagione, viatico eccezionale per tentare la promozione in Serie A al prossimo anno. La cronaca. Masella con un chirurgico calcio di punizione mette subito le cose in chiaro. Per lo Sparta Taranto sarà una gara difficile. La partita è iniziata da pochi minuti e di bianco-blu sono James vantaggio di un gol. Dim Songwe si propone all'attacco scattando sul filo del fuorigioco. Appena entrato in aria però viene atterrato da Colomba provocando così la decisione dell'arbitro che assegna il penalti per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta Formuso che freddo come il ghiaccio spiazza Palmieri realizzando la rete che vale il raddoppio. Dim Songwe ruba palla a centrocampo e successivamente lancia in profondità Domenico Annichiarico che befa Palmieri uscito alla disperata con un morbido pallonetto. Barcafe fa negli avanti di tre gol. Sparta Taranto non pervenuto. Lancio dal centrocampo intercettato da Domenico Annichiarico che in qualche modo riesce a crossare al centro dove però interviene Cavallari a scongiurare il pericolo. Calcio d'angolo per Caffè Fanelli questa volta è Palmieri che salva la porta. E finalmente scendono in campo i bianco-blu dello Sparta Taranto e Di Gioia che suona la sveglia per i suoi con un magnifico calcio piazzato che supera Memmola per poi gonfiare la rete. Di Gioia è scatenato e due minuti più tardi realizza il raddoppio per lo Sparta Taranto irrompendo in area per trasformare in gol la punizione di De Quarto. Clamoroso al centro sportivo Monticello. Cross di Zingarelli, gualano di testa serve tedesco che scarica un sinistro violentissimo che sfiora il pallo alla sinistra di Memmola. In chiusura di primo tempo però arriva il quarto gol per i padroni di casa e lo firma ancora Domenico Annichiarico che raccoglie una respinta della difesa avversaria per battere Palmieri con un preciso destro a girare. La ripresa si apre col quinto gol di Barca Fefanelli e l'autore non poteva che essere cinque il quale ruba palla ad un incauto Minelli per battere Palmieri con un preciso raso terra che si infila lì dove non ci sarebbe passata neanche una formica. Gualano davvero maschio alfa va a prendersi il pallone con la forza e dopo aver scartato chiunque gli sia passato davanti infila il pallone in porta mettendo a referto il terzo gol dello Sparta Taranto. La partita non è ancora finita. Ancora di gioia su punizione questa volta però la palla vola sopra la traversa. Calcio piazzato di Tedesco e panico tra i giocatori di Barca Fefanelli perché Memmola non trattiene favorendo il tentativo di Zingarelli libera poi 40. L'arrembaggio dello Sparta Taranto si ferma su questo palo colpito da Tedesco a conferma di quanto detto in apertura di servizio. Troppo discontinuo il rendimento dei tarantini in questa stagione a dispetto del potenziale tecnico. Per i padroni di casa invece altri tre punti per mantenere il quarto posto in solitaria.